quando saliamo in moto molto spesso ci fa piacere isolarci per goderci il momento altre volte però preferiremmo restare connessi soprattutto in un mondo in cui sempre più attività e funzioni passano attraverso il telefono e restare isolati può diventare un problema questo ha fatto la fortuna di moderni interfoni un tempo aggeggi riservati ai radiomatori o ai mototuristi più incalliti ma che oggi sono diventati l'indispensabile complemento ai moderni cruscotti con connettività bluetooth e che ci consentono di mantenere la qualità della vita a bordo allineata agli standard a cui ci ha abituato l'automobile oggi parliamo del b902x al vertice dell'offerta di n com che è la divisione specializzata in dispositivi elettronici e di comunicazione del gruppo nolan si tratta di un interfono che dà ovviamente il meglio di sé quando abbinato a uno dei numerosissimi caschi del gruppo bergamasco che dispongono della predisposizione nativa noi lo abbiamo montato su un xlite x1005 ultracarbon il top di gamma degli apribili del gruppo nolan con questa livrea cinquantesimo anniversario che caratterizza molti modelli 2022 di xlite e di nolan perché scegliere un interfono integrato i motivi sono abbastanza evidenti facilità di installazione e soprattutto una disposizione ottimale dei componenti all'interno del casco che una volta indossato mantiene il suo bilanciamento e questo è forse anche più importante del peso nell'esperienza di guida il gruppo nolan offre diverse soluzioni tra le quali il b902x è fra le più evolute e ricche potendo contare sulla predisposizione per unità di controllo e per la batteria e non solo per gli auricolari l'installazione del b902x è particolarmente semplice e rapida i componenti sono disposti simmetricamente sui due lati e il tastierino sottile e poco sporgente altera in modo minimo la sagoma del casco questo aspetto è particolarmente importante non solo perché riduce le turbolenze aerodinamiche e frusci ma anche perché nel malegorato caso di una caduta il casco deve offrire meno resistenza possibile allo strisciamento e arrotolamento tant'è vero che tutti i caschi del gruppo nolan che sono omologati mcom lo sono con l'interfono integrato e quindi offrono con l'interfono montato la stessa resistenza e protezione di un casco senza interfono se facilità di installazione e massima sicurezza sono i due grandi plus di un interfono integrato e in particolare del b902x da soli non giustificherebbero l'acquisto se la funzionalità non fosse lo stato dell'arte invece il b902x è come dicevamo al top dell'offerta di interfoni ncom per xlite esteriormente è indistinguibile del b601x ma un'elettronica più raffinata per offrire un lungo elenco di funzioni interfono pilota passeggero e moto moto via bluetooth compatibilità bluetooth con interfoni di altre marche smart conference fino a quattro interfoni ncom e interfono a catena per modelli di altro tipo gestione delle telefonate anche con comando vocale telefonate in conferenza gestione intelligente del navigatore dello smartphone lettore mp3 e condivisione musica con il passeggero radio integrata attivazione e disattivazione vocale ricezione dei segnali audio della moto compatibilità con telecomando da manubrio predisposizione per collegamento bluetooth ai sistemi audio di ducati bmw ktm harley davidson e honda goldwing con integrazione nei comandi e manubrio una volta installato nel casco la configurazione è piuttosto intuitiva e può essere effettuata in modo velocissimo con la app gratuita easy 7 aggiornamenti firmware possono essere fatti dal computer delle molte funzioni richiamabili dal tastierino si usano soprattutto i comandi vocali che sono talmente pratici quando si usa la moto che non si sente nemmeno la mancanza di una rotella di selezione come alcuni interfoni offrono il tastierino ha un utilizzo semplice i quattro tasti non hanno un click netto ma il feedback è sempre buono anche con i guanti e questo è ciò che conta il b902x può contare su un sistema bluetooth 4.1 con antenne integrata brevettata e audio hi fi stereo notevole l'effetto di tridimensionalità con il suono che arriva da tutte le direzioni la qualità audio è molto buona con dei bassi profondi e dei medi molto dettagliati il volume non è altissimo ma la compensazione automatica del rumore di fondo rende l'esperienza sempre piacevole anche ad alta velocità nelle conversazioni telefoniche il sistema di riduzione dinamica del rumore dsp filtra il rumore di fondo in modo efficace e la voce sia in uscita che l'entrata è udibile in modo distinto l'interfono ncom b902x è quindi allineato alla migliore concorrenza in termini di prestazioni lo è anche nel prezzo di 324 euro e 99 è certificato impermeabile ip67 è ricaricabile anche da acceso oltre alla completezza delle sue funzionalità e la qualità del funzionamento quindi il suo plus è come detto la perfetta integrazione nei caschi con predisposizione ncom un aspetto che fa dimenticare il peso per altro contenuto di 110 grammi compresa la batteria che consente fino a 15 ore di conversazione e fino a 23 giorni in stand by quindi restare offline sarà l'ultimo dei vostri problemi grazie a tutti grazie a tutti